Ebbene, sapete che c'è un'agenzia diafittica in questa casa e il suo nego per le camere che lo vedete? Sono sicuro che non le affittano ma potete scommetterci che chiunque viene qui a chiedere una camera? Non se ne va se è stato fatto un buon pranzo e quasi certamente con qualche dollaro in saccoccia. Perché ti mette all'improvviso contro Teddy? È tuo fratello. È meglio che ve lo dica subito. Prima o poi lo verrete sapere. Teddy ha ucciso un uomo. Chiunquezza è caro? Ma sì caro, lo sappiamo. Lo sapete? Certo caro, è così che abbiamo fatto con gli altri. Ma zia Marta, non potete sempre dire signor? Gli altri? Ma che altri signori? Quando dite altri, volete dire altri più altri di uno? Caro, vediamo un po' quanti sono. Undici, vero Abby? No cara, sono dodici con questo. Mortimer? Mortimer? Quello no, Mortimer! Aaaaaah! Questa, la casa della mia gioventù. Da ragazzo non vedevo l'ora di scamparvene ed ora sono felice, felice. È la casa più pacifica del buono. Carino! Generale, quale presidente degli Stati Uniti, comandante e capo dell'esercito della Marina e vostro principale, vi ordino di accompagnarvi e spezzionare la nuova chiusa? Beh, vieni a vederlo adesso. È davvero molto simpatico per essere un metodista. Guarda! Portiamo dentro i nostri bagagli da qui. Credo che sia pericoloso, non bisognerebbe lasciarla girare liberamente. Guardami la mano di indosso! E ora, cara signorina, sarà un funeale strettamente privato. Ehi, senti! Tutti questi uomini chi sono io? E mia figlia, Alice. Ehi, Alice, non fare la monella, non dare fastidio ai signori. Ehi, no! Che cosa c'è? Che cosa stanno facendo? Che cosa stanno facendo? Lui se ne sta seduto lì, il cretinone. Quest'uomo che dovrebbe essere intelligente e che non aspetta altro che di essere legato e impavagliato. Che cosa stanno facendo?